Mal tempo, archiviata l'allerta meteo, si fa la conta dei danni. Rave non autorizzato e rompono i carabinieri, 136 denunciati. Cassiera minacciata con pistola giocattolo, saccheggiata, sala slot di Pesaro. Superata la settimana di ricerca al furlo, ma Riccardo Branchini ancora non si trova. Una statua per Tonino Benelli, Pesaro omaggia il capostipide della sua tradizione motoristica. Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Riparto una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di Rossini News. Notiziario di lunedì 21 ottobre che arriva dopo un weekend di forte mal tempo nel nostro territorio, in particolare nella giornata di sabato, una giornata che ha lasciato importanti strascichi e danni che andiamo ad analizzare nel nostro primo servizio. Esaurita l'allerta meteo, si passa la conta dei danni. L'ennesima alla luce di un sabato di piogge copiose che hanno portato con sé il proprio corredo di danni fra frane, alberi crollati e allagamenti. A Pesaro le zone più colpite sono state quelle di Monte Granare e Muraglia, così come Loreto con il suo sottopasso puntualmente allagato, oltre alle frane sull'ardizio che hanno portato alla chiusura temporanea della statale fra Pesaro e Fano e al divieto di transito sul ponte di collegamento ad essa fino alla giornata odierna. All'ospedale di Muraglia sono riemerse prepotenti le infiltrazioni d'acqua che hanno portato al trasferimento di quattro pazienti verso ematologia e a pochi passi dal tribunale è crollato un albero in via 24 Maggio devastando due automobili e distruggendo le centraline di acqua e gas di una palazzina. I danni sono tanti perché è tutta una serie di piccoli danni ma soprattutto di frane. Stiamo facendo il conto di quelli che possono essere i costi necessari per ripristinare tutte queste frane che si sono succedute. Devo dire che ormai le piogge sono talmente intense che la rete delle acque chiare fa difficoltà a reggere queste piogge così intense. Riuscire a mettere a posto le acque chiare è veramente un grandissimo problema perché sono necessarie decine di milioni di euro. Cercheremo di intervenire nei punti un po' più critici nei prossimi mesi ma anche nei prossimi anni un po' alla volta perché pensare di riuscire a risistemare quella che è la rete idrica appunto delle acque chiare è veramente molto difficile. Però cercheremo di fare il possibile partendo ovviamente da quelle zone che possono essere considerate quelle più critiche quindi mi riferisco a Sottopascio di Loreto, alla zona di Via Flaminia, mi riferisco a tante zone altre della città dove abbiamo visto che con queste piogge così intense diciamo che anche tenendo pulite le caditoie i tubi che ci sono all'interno cioè sotto la strada difficilmente riescono ad accogliere tutta quest'acqua. Un altro punto critico è sicuramente il curvone vicino al parcheggio però ripeto non dobbiamo illudire i cittadini che siamo in grado di fare gli interventi in 448 perché ogni intervento richiede centinaia di migliaia di euro. E proprio mentre imperversava il maltempo nella nostra provincia c'è chi ha visto bene di organizzare un rave in mezzo all'area naturalistica del Furlo. Un rave party non autorizzato nel comune di Fossombrone all'interno dell'area naturale paesaggistica dell'Oasi del Furlo e quanto scoperto dai carabinieri di Fanoieri all'interno di un capannone di una cava di smessa. Un rave consumatosi fra la notte di sabato e la tarda mattinata di domenica al quale hanno preso parte 136 persone d'età compresa fra i 18 e i 60 anni tutte denunciate in stato di libertà alla stazione dei carabinieri di Fossombrone. Secondo gli stessi carabinieri il rave si è svolto con gravi pericoli per la salute e la sicurezza pubblica considerate anche le forti precipitazioni meteo. La maggior parte dei partecipanti proveniva dai comuni limitrofi ma si sono registrate anche presenze da tante altre regioni italiane e persino dalla Francia. Ricevuta la segnalazione delle rave i carabinieri intervenuti in forze con equipaggi da Pesaro, Fano e Urbino hanno circoscritto l'area e identificato i vari partecipanti. E' intervenuto anche il personale della questura sgomberando la zona senza incidenti e rilevando un cospicuo abbandono di rifiuti. Nei confronti dei due organizzatori del rave si è proceduto anche con il sequestro penale di tutta l'attrezzatura utilizzata come casse audio o gruppi elettrogeni. Rimaniamo sulla cronaca ma torniamo su Pesaro dove ieri c'è stata una rapina ai danni di una sala slot in largo a Scolipiceno in zona Tombaccia. Il fatto è avvenuto in pieno giorno dove un uomo è entrato col volto travisato da passamontagna e ha puntato una pistola alla cassiera che in quel momento era sola nel locale. La donna terrorizzata ha consegnato l'intero fondo cassa per un ammontare di diverse migliaia di euro. Secondo i carabinieri intervenuti l'uomo avrebbe utilizzato una pistola giocattolo smontata del tappino rosso che la indica come pistola salve. Messo a segno il colpo l'uomo si è allontanato a piedi e la ragazza ha subito dato l'allarme ai carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza. Sono attualmente in corso le indagini che contano di avere aiuti concreti dall'acquisizione delle immagini di video sorveglianza. E non si trova ormai da più di una settimana Riccardo Branchini che il 13 ottobre scorso ha fatto perdere le sue tracce attorno alla diga del furlo. Si continua a cercarlo sul posto così come si sondano le segnalazioni su un ipotetico allontanamento volontario. Superata la settimana di ricerche costanti, ma Riccardo Branchini ancora non si trova. Nove tracce del 19enne di Acqualagna di cui si sono perse le tracce il 13 ottobre con l'ultimo segno tangibile in quell'auto parcheggiata ai piedi della diga del furlo con all'interno indumenti e telefonino. Le ricerche vanno allentandosi ma la prefettura ha comunque disposto la presenza di un presidio diurno dei vigili del fuoco per monitorare il deflusso delle acque e proseguire le ricerche con i droni. Una pista di ricerche che presuppone un insano gesto ma non si esclude ancora quella dell'allontanamento volontario per il quale la famiglia Branchini ha dato mandato all'avvocato pesarese Elena Fabri del controllo delle segnalazioni con un numero dedicato. Quattro quelle al vaglio d'esame di presunti avvistamenti fra Pesalo, Salerno, San Severino Marche e la stazione di Bologna. Un allontanamento che resta alla speranza della famiglia che attraverso la madre Federica Pambianchi ha rivolto un disperato appello alla trasmissione RAI che l'ha visto. Ricchi, ti prego, ti scongiuro, ritorna a casa. Sono distrutta senza di te. La mia vita non ha senso senza di te. Qualunque cosa sia successa, non avere paura. L'affrontiamo insieme. Devi stare tranquillo, ti puoi fidare al 100% di me. Ti aiuto in tutti i modi possibili. Non so che cosa ti sia successo ma la mamma è vicino a te. Ti devi fidare, devi stare tranquillo. Io sto male senza di te. Ho bisogno che ritorni a casa. Ho bisogno che ritorni da me. Sabato 26 ottobre Pesaro ospita gli stati generali del turismo in un 2024 particolarmente significativo come anno di capitale della cultura. Appuntamento a partire dalle 10 presso della Chiara Workspaces in strada a Selvagrossa con il talk Pesaro 2024 bilancio e legacy di un anno da capitale della cultura alla presenza di sindaco e vice sindaco Andrea Biancani e Daniele Vimini del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli della dirigente turismo regione Marche Paola Marchegiani del direttore generale Pesaro 2024 Silvano Straccini e del self director di Data Peel Company Mario Romanelli un talk che sarà condotto dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Ne seguirà un altro dal titolo Rilancio 2025 nuovi scenari possibili in prospettiva Pesaro 2033 alla presenza tra gli altri della direzione di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura così come della portochese Evora Capitale Europea della Cultura per il 2027. C'è una nuova statua che troneggia in una zona ad alto transito veicolare della città di Pesaro si tratta della statua che tributa la grandezza di Tonino Benelli capostipite di tutti i piloti pesaresi. Un monumento ad imperitura memoria delle capostipite di tutti i piloti pesaresi e della famiglia di pionieri dell'industria motoristica in città. In una piovosa domenica d'ottobre tanti appassionati di moto si sono assiepati alla rotatoria di largo Tremartiri con la circolazione stradale chiusa per l'occasione per veder svelato il monumento in omaggio al mito di Tonino Benelli. Cinque quintali di bronzo a ritrarre la leggenda che ha nascato il legame secolare fra Pesaro e motori. Una statua realizzata da Massimo Fraternali del 10% superiore alla grandezza naturale. Inaugurazione accompagnata dall'arrivo di una storica Benelli 175 che ha alzato i decibel del rombo delle quattro volte campione d'Italia fra gli applausi delle istituzioni che hanno reso possibile l'installazione dal comune al motoclub Benelli fino al registro storico Benelli. Presente anche l'ASI in occasione del weekend ASI Show e l'amministratrice di Benelli QJ Jan Aimei che da 20 anni guida l'azienda tenendo altissima la solidità del brand. La storia in moto di Pesaro parte grazie alla famiglia Benelli che decide qui in mezzo alle fattorie di partire con l'industria la prima industria diciamo a sud all'epoca era l'industria più a sud d'Italia e parte a fare motociclette in una città dove le motociclette non c'erano parte a fare il moto e il fratello più piccolo decide di cominciare a correre da lì la successione che ha portato Dorino Serafini, Silvio Grassetti Valentino Rossi i piloti arrivare e partire da Pesaro da lì sono partite le fabbriche quindi è partita la MBA la Moto B, la Morbidelli la TM la Benelli che è sempre rimasta e praticamente tutto ciò è legato a Tonino Benelli questo vogliamo rappresentare con questa statua la storia motociclistica è di piloti di Pesaro che ha avuto origine con Tonino Benelli che all'epoca rappresentava quello che per noi rappresenta adesso un Valentino Rossi cioè un eroe per la città di Pesaro che ci ha portato grandi nel mondo è una grandissima soddisfazione perché diciamo che staticizza, blocca un po' il momento di quello che è stato il precursore di tutta la categoria grande e folta schiera di motociclisti della zona pesaresi partiti appunto dal campione Tonino Benelli siamo partiti con un sogno incredibile che è stato quello del museo abbiamo continuato con la statua di Tonino Benelli che è stato il capostipite di tutti i piloti pesaresi da Tonino Benelli Riccardo Bruzier Armando Pizzioli Dorino Serafini Paolo Campanelli Grassetti Lazzarini Graziano Rossi e poi Valentino Rossi anzi io mi piace dire che Valentino Rossi è l'ultimo dei Tonino Benelli nato in questa città il più giovane dei suoi fratelli che è ancora l'orgoglio cittadino in motocicletto ovviamente Mi ha chiamato Paolo della Benelli e si faceva un bozzettino e da lì è nato tutto evidentemente gli è piaciuto il mio genere la mia creazione un modello molto plastico semplice poi mi hanno dato sono venuto a trovarmi in laboratorio io ero di Sasso Coroana mi sono trasferito in Romagna e ho cominciato a modellarla e lì è nato tutto è nato gli è piaciuto tanto hanno visto il modello e poi io essendo sia scultore che fonditore ho cercato di dare il massimo in questa opera e creare anche una patina un po' particolare diversa che riprendesse i colori del marchio del club Benelli Pesaro vuole sempre essere più una città un territorio pronto ad ospitare tutti gli appassionati di motori ma voglio ricordare il museo Benelli importantissimo dove c'è praticamente la storia intera di quella che è stata la moto Benelli nel corso degli anni voglio ricordare la collezione Morbidelli attualmente ospitata al museo Benelli ma che dovrà andare a quello che sarà il museo nazionale della moto all'ex tribunale al momento purtroppo non siamo riusciti a partire con i lavori però contiamo entro il 2025 di poter partire con i lavori anche per realizzare appunto il museo nazionale della moto e dalla Benelli passiamo ad un'altra eccellenza motoristica della città di Pesaro ovvero la TM Moto che in occasione del quarantesimo anniversario dell'azienda ha prodotto un documentario celebrativo delle quattro decadi che hanno portato la TM ad essere conosciuta nel mondo un docufilm dal titolo ad ogni costo che è stato presentato venerdì sera al forum della Chiara una produzione che mostra l'azienda e le voci dei protagonisti che l'hanno resa grande mossi dalla passione delle due ruote folta partecipazione ieri a Pesaro per la tradizionale festa del voto alla Madonna delle Grazie tenutasi come da tradizione ogni terza domenica di ottobre da 169 anni ovvero da quel 1855 in cui si riconobbe l'intercessione alla Madonna delle Grazie la protezione della città da un'epidemia di colera processione per le vie del centro con la benedizione dell'arcivescovo Sandro Salvucci in piazza prima della messa celebrata da Don Marco di Giorgio presso la stessa chiesa della Madonna delle Grazie e ieri a Pesaro è stato anche inaugurato il primo tempio zen unsui della città un centinaio di persone sono state presenti all'inaugurazione del tempio nuvole acqua che vuole rappresentare un punto di riferimento non solo per la comunità buddista zen del territorio ma anche per tutti coloro che desiderano vivere momenti di meditazione studio e condivisione nell'occasione si è anche celebrata l'unione con Rito Zen di due neosposi Giuliano e Maria Grazia e il maltempo non ha fermato ieri la conclusione dell'Asi Show la tre giorni in città dell'automotoclub storico italiano si è conclusa con la sfilata fra piazza del popolo e la palla di pomodoro di più di un centinaio di veicoli che hanno fatto la storia della locomozione da un secolo di auto storiche alle moto dai velocipiti fino agli autobus i mezzi agricoli e i veicoli di servizio domani martedì 22 ottobre alle 18.30 al Cinema Astra si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Incontri Capitali protagonista sarà il noto giornalista e saggista Gad Lerner che ci porterà nel cuore del conflitto israelo-palestinese presentando il suo ultimo libro Gaza odio amore per Israele in dialogo con Massimo Veneziani giornalista del Tg3 Rai e prosegue il 77esimo Festival d'Arte Drammatica Gad che ieri nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini ha segnato i riconoscimenti della sesta edizione del premio Antonio Conti la giuria del concorso ha premiato l'autore napoletano Antonio Piccolo con Fiori di Luna ed ora parliamo di arte lo facciamo andando ai musei civi dove si sta celebrando in mostra l'artista Ettore Travaglini nel centenario della sua nascita sarà visitabile fino all'8 dicembre ai musei civici l'urlo creativo mostra monografica di Ettore Travaglini artista scomparso nel 1988 che ha connotato il novecento pesarese e che la capitale della cultura omaggia esponendo 55 suoi dipinti nel centenario della sua nascita Ettore Travaglini mio padre che io come diciamo artista ho scoperto molto tardi perché per me era il papà che dipingeva io da piccolo stavo nello studio dove lui dipingeva per me era una cosa normale poi crescendo ho cominciato a capire forse un po' tardi quello che potrebbe essere il valore o l'impegno di mio padre l'abbiamo diciamo poi dopo la sua morte mia mamma si è data molto da fare per cercare di mantenerle il ricordo e questa mostra in questo bellissimo posto che sono i musei civici mi auguro che ci permetta di mantenerne il ricordo e apprezzarne anche il valore un universo che non mi stanco mai di riscoprire con grande meraviglia e molta elettricità emotiva perché il papà che ho sempre conosciuto io era un uomo molto riservato per cui vedere tutte queste opere esposte ogni volta che capita è veramente emozionante perché scopro una parte un lato artistico immaginifico di papà che non si conoscevo ma conoscevo come dire distrattamente da figlio che comunque è abituato a vedere un papà che al piano terreno della propria casa si prodiga a dipingere sulla tela un grande artista pesarese ma che ha una rilevanza e un'importanza di livello quantomeno nazionale la scelta è quella di attraversare proprio per farlo conoscere e riconoscere la sostenanza ai turisti ma anche ai più giovani e un arco di tempo che abbraccia tutta la sua produzione quindi non una fase specifica ma che permette appunto di vedere la periodo più figurativo quello più astratto e informale anche attraverso diversi innesti sia documentali come anche peraltro il suo tavolo di lavoro ma anche delle lettere dei testi che lui scriveva addirittura il QR code riascoltare delle interviste come una alla RAI di Bologna nell'archivio dell'atelier di papà si rinvengono delle poesie di cui nessuno di noi in famiglia sapeva nulla e quindi è stata una bella scoperta e penso che questo materiale narrativo poetico vada pienamente ad integrare l'opera pittorica che penso sia in questo modo ancora più comprensibile e completa di quanto non fosse prima perché questo titolo l'urlo creativo è preso da una espressione proprio di Ettore Travaglini in una lettera che lui scrive al critico d'arte Elverio Maurizzi anche lui precocemente scomparso che come dire era un punto di riferimento proprio per tutta una generazione di artisti di giovani artisti all'epoca siamo negli anni intorno agli anni 90 e prosegue un urlo creativo per superare ogni superare i limiti e proprio ci è sembrato rappresentasse proprio molto bene il litter creativo di Ettore Travaglini raccontare il percorso creativo di Ettore Travaglini attraverso le sue diverse fasi e questo processo di metamorfosi che attraversa la sua poetica sin dagli esordi e porta Ettore Travaglini a lavorare sulla materia sulla forma in maniera costante creativa ma anche sulla scia di questa trasformazione quindi passa da una fase all'altra e da contenuti diversi tra loro proprio alla ricerca di una sintesi che poi troveremo negli angeli nella rappresentazione degli angeli e nella rappresentazione degli ipterodattili Allora gli studenti dell'indirizzo professionale per il Made in Italy dell'Italz Bromante Genga hanno ideato progettato e realizzato un supporto autoportante per i quadri al fine di aumentare lo spazio espositivo e il loro lavoro iniziale è stato proprio quello di conoscere le opere dell'autore per avere anche un'analisi più precisa di quelli che erano poi gli spazi da utilizzare e anche l'estetica del supporto che ha realizzato devo dire con grande entusiasmo e come ogni lunedì concludiamo con lo sport è stata un'altra domenica terribile per la VL che è incappata in una terza sconfitta consecutiva che certifica lo stato di crisi profonda sorridono invece la Megabox Vallefoglia e la Vispesero nel volley e nel calcio rispettivamente con una bella vittoria e un importante pareggio sconfitta la Pesero Rugby e anche l'Ital Service nell'Uvertour di Serie A di calcio a 5 4 sconfitte in 6 partite riavvolgendo il nastro da appena un mese fa neanche il più pessimista degli uccelli del malaugurio avrebbe immaginato una partenza tanto avvilente per la Carpegna Prosciutto Pesero nel campionato di Serie A2 e invece una tremenda realtà di concretezza quella con cui si deve scontrare la VL che con la Tezenis Verona alla Vitri Frigo Arena incappa nella terza sconfitta consecutiva col punteggio di 63-73 alla prima di Spiroleca il nuovo coach sbatte sulla montagna di scoria da smaltire del gruppo squadra che parte imballato da subito e concede a Verona di mettere il muso avanti e tenerlo fino al traguardo della sirena rispetto a Forlì Pesero ha mostrato una reazione di aggressività che ha consentito di chiudere il primo tempo con appena due lunghezze di ritardo e di mantenersi a tiro pure a fine terzo quarto anche grazie ai 25 punti di Ahmad nell'ultimo parziale però le mani tremano Verona ringrazia e il pubblico peserese fischia se il basket piange sorride invece la pallavolo con la megabox Vallefoglia che alla prima casalinga davanti al pubblico amico vince in 3-7 contro Busto Arsizio dopo le due maratone di Firenze-Perugia a Pesero le tigre si impongono in un'ora e mezza con convincenti 25-21 25-18 25-15 grazie anche a un ottimo ritorno in campo di Simon Lì MVP di serata oltre alla solidità al centro di Kandi e Weizel nel calcio arriva il quarto pareggio consecutivo per la Vispesero ma l'1-1 di Chiaveri è il più gratificante della serie perché in Ligure i biancorossi se la giocano alla pari contro la seconda forza del torneo reduce da tre vittorie di fila e la Visza ad andare in vantaggio dopo 21 minuti col difensore Coppola puntuale sul tappin vincente al cospetto della corta respinta del portiere su punizione di Di Paola Lentella pareggia al 35esimo con un contestato gol di Marconi in cui il guardaline segnala fuori gioco ma l'arbitro annulla la decisione del suo assistente è partita anche la Serie A di Calcio 5 con l'Ital Service Pesaro che in terra capitolina contro la corazzata Roma perde a testa alta 5-3 ottimo approccio alla gara dei biancorossi che vanno sul 2-0 dopo appena 7 minuti con le reti di Galliani e Gomez Roma però ha una reazione rabbiosa e pareggia con la doppietta di Dimas l'Ital Service scheggia i pali in avanti ma l'espulsione del portiere Ricordi cambia l'inerzia del match con Roma che spinge e va a riposo sul 4-2 nel secondo tempo l'Ital Service accorce sul 4-3 con Gastaldo e accarrezza al pari prima di capitolare sul definitivo 5-3 di Ercolessi ad una manciata di secondi dalla fine nel rugby la seconda partita stagionale della Fioreni Pesaro ha un esito simile alla prima con Casale e infatti Valpolicella ad aggiudicarsi la vittoria 31-24 in un match in cui Pesaro a tratti si impone e dall'altro disfa fra falli e amnesie dovendosi accontentare del solo punto di bonus difensivo e dunque si conclude qui Rossini News prima di salutarci altro appuntamento di informazione alle 20 con il magazine La Natura della Cultura andiamo a scoprire la settimana di Sant'Ipolito che è il comune capitale al quadrato in questa settimana che comincia in questo lunedì 21 ottobre appuntamento alle 20 dunque sempre su Rossini TV e poi c'è l'appuntamento con la differita delle partite della VL un appuntamento fisso in quest'anno con Rossini TV partner ufficiale della squadra in questo campionato di Serie A2 rivedrete alle 21 questo match tra la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e la Scaligera Verona e poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento con Buongiorno Rossini che torna domattina in diretta alle 7.20 rassegna stampa dei quotidiani locali che sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi ed è davvero tutto per questa sera restate però con noi anche dopo la pubblicità perché vi mostriremo un altro trailer degli spettacoli in concorso al 77esimo Festival GAD che è in corso a Pesaro in questi giorni anche quest'anno infatti Rossini TV assegnerà un suo premio al miglior trailer che potrete votare ve lo ricordiamo sulla pagina Facebook Amici della Prosa questa sera vi proponiamo Killer della compagnia Teatro di Sabbia di Vicenza spettacolo che sarà in scena al Teatro Rossini giovedì 24 ottobre alle ore 21 e dunque non perdetevi anche questo trailer da parte mia è davvero tutto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi a Pesaro